e salve a tutti i ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del critico allora partiamo dal presupposto che io questo contenuto per parlare di questa situazione non volevo farlo perché sinceramente non me ne andava proprio di parlare dell'ennesima situazione brutta del nostro calcio ma purtroppo alla fine lo devo fare perché è giusto che anche io esprima il mio parere allora come sappiamo negli ultimi giorni sono uscite queste bombe sulla vicenda calcio scommesse abbiamo iniziato da da fagioli per poi arrivare a zaniolo e tonali allora cosa voglio dire allora premesso che secondo me è giusto che chi sbaglia paga io adesso letto in questi giorni che si parla di squalifica di fagioli addirittura rischi a tre anni di squalifica cose così che poi stamattina è emerso che ci sono altri dieci nomi almeno dieci nomi che ancora non sono stati fatti ma che verranno fatti presto ieri sera un mio amico addirittura mi ha mandato un articolo del messaggero se non mi ricordo male dove si parlava di sanzioni e rischi per le società alle quali questi giocatori erano tesserati ai tempi della vicenda in questo caso parliamo di zaniolo tonali quindi si parla di si parlava in questo articolo di ripercussioni anche per milan e roma ma su questo ci torneremo se sarà confermato se avrò altri aggiornamenti io non voglio né parlare di quelle che saranno le sanzioni di quello che voglio solamente esprimere quello che penso e quello che pensa è che secondo me va bene tutto cioè va bene tutto nel mondo nella vita una schedina una bolletta come la volete chiamare però quando sei un giocatore professionista che hai delle regole questa è una di queste regole ti dice che tu non puoi scommettere il calcio cosa lo fai a fare va bene magari viene fuori lo psicologo che dice che ragazzo ha un problema è tutto però ok però tu come società quando tesseri un giocatore queste cose le devi sapere cioè voglio dire sti giocatori quando vanno a fare visite non fa solo le visite mediche per il fisico per vedere come sta a livello fisico penso che faranno anche visite a livello psicologico credo non so come funzionino le visite mediche perché no di un calciatore perché non l'ho mai non sono un calciatore quindi non so come funzionino però penso che comunque le società sappiano di questi problemi se uno ce li ha e comunque dovrebbero anche tutelare un po sti ragazzi anche perché qui parliamo di fagioli che è giovane quando c'ha fagioli 21 anni mi sembra comunque tonali e zaniole non è che so vecchietti comunque anche loro sono ancora giovani quindi voglio dire le società quando fanno queste cose cioè quando succede queste cose comunque il ragazzo devono provare a tutelarlo in qualche modo però ripeto le regole ci sono andrebbero rispettate comunque alla fine viene fuori uno tanto che vuole nasconde però alla fine viene fuori quindi può non lo so non lo so comunque ripeto io da persona normale cioè da essere umano normale che diciamo quasi tutte le settimane si va a fare una schedina con gli amici però io io posso io posso non sono testerato con nessuna società vado a fammi una bolletta da 2 euro e gioco ma per modo di dire poi finché si tratta di quello vabbè ma quando cominciano a parte cifre grandi ci comincia sta i problemi e il giocatore il giocatore in questo caso che non è che i soldi manca il giocatore seriale soldi non mi manca però il motivo c'è di andare la si magari c'è un problema psicologico quello che dunque sia però comunque sta sta diciamo sta la società cercare di mantenere un ordine un equilibrio e tutto vedremo un po come si concluderanno ste sanzioni se ci saranno ripercussioni senza disciplinare quello che dunque sarà vediamo un po niente io volevo solamente esprimere il mio puro e semplice parere detto ciò raga ditemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda e niente io vi mando un saluto e vi do appuntamento in un prossimo video sempre qui sul canale del critico nuovo giorno nuovo video nuovo giorno nuova critica un saluto raga ciao